La Madonnina Una scatola di giocattoli, di quelle con gli alberetti incoronati di truccioli e col dischetto di legno incollato sotto al tronco, perché si reggano in piedi. E le casette ad adie, la chiesina col campanile e ogni cosa. Ecco, immaginate una di queste scatole, data in mano al bambino Gesù, e che il bambino Gesù si fosse divertito a costruire al padre beneficiale Fiorica quella sua parrocchietta così, La chiesina modesta, dedicata a San Pietro, di fronte, e di qua la canonica, con tre finestrette riparate da tendine di mussola inamidate, che intravedendosi di là dai vetri, lasciavano a indovinare il candore e la quiete delle stanze, piene di silenzio e di sole. Il giardinetto accanto, col pergolato e in espoli del Giappone, e il melograno e gli aranci, i limoni. Poi, tutto intorno, le casette umidi dei suoi parrocchiani, divise da vicoli e vicoletti, con tanti colombi che svolazzavano da gronda a gronda, e tanti conigli che, rasenti ai muri, spiavano raccolti e tremanti, e gallinelle ingorde e rissose, e porchetti sempre un po' angustiati, si sa, e quasi irritati dalla soverchia grassezza. In un mondo così fatto, poteva mai figurarsi il padre beneficiale Fiorica che il diavolo vi potesse entrare da qualche parte? E il diavolo, invece, vi entrava a suo piacere, ogni qualvolta gliele veniva il desiderio, di soppiatto e facilissimamente, sicuro d'essere scambiato per un buon uomo o una buona donna, o anche spesso per un innocuo oggetto qualsiasi. Anzi, si può dire che il padre beneficiale Fiorica stava tutto il santo giorno in compagnia del diavolo, e non se ne accorgeva. Non se ne poteva accorgere, anche perché bisogna aggiungere, neppure il diavolo con lui sapeva essere cattivo. Si spassava intanto a farlo cadere in piccole tentazioni, che al più e più, scoperte, non gli cagionavano altro danno che è un po' di beffe da parte dei suoi fedeli parrocchiani e dei colleghi superiori. Una volta, per dirne una, questo maledettissimo diavolo indusso una vecchia dama della parrocchia, andata a Roma per le feste giubilari, a portare di là, al padre beneficiale Fiorica, una bella tabacchiera ad osso, con l'immagine del santo padre dipinta a smalto sul coperchio. Ebbene, si crederebbe, vi sallogo dentro, nonostante la custodia dell'immagine, e per più di un mese, ai vesperi, mentre il padre beneficiale Fiorica faceva alla buona un sermoncino ai devoti, prima della benedizione, di là, dentro la tabacchiera, si mise a tentarlo. Su, un pizzichetto, su, facciamola vedere, la bella tabacchiera. Per soddisfazione, della dama che te l'ha regalata e che sta a guardarti, un pizzichetto! Ed agli e dagli, con tanta insistenza, che alla fine il padre beneficiale Fiorica, il quale non aveva mai preso tabacco e aveva incominciato a prenderlo molto timidamente dal giorno che aveva avuto quel regalo, ecco che doveva cedere, a cavar di tasca la tabacchiera e il grosso fazzoletto di cotone a fiorami. Di conseguenza, un sermoncino interrotto da un'infilata di almeno 40 sternuti e arrabbiate e strepitose soffiate di naso che facevano ridere tutta la chiesina. Ma il peggio di tutte fu quando questo diavolo maledetto si insinuò nel cuore di una certa amara stella che era una poverina svanita di cervello, babbina di trent'anni, bellissima e cara a tutto il vicinato che rideva dell'inverosimile credulità di lei tutta sempre sospesa a una perpetua, ansiosa maraviglia. Si insinuò dunque nel cuore di questa amara stella e la fece innamorare Coram Populo del padre beneficiale Fiorica che aveva già circa 60 anni e i capelli bianchi come la neve. La poverina, vedendolo in chiesa o sull'altare durante l'ufficio divino o sul pulpito durante la predica, non rifiniva più d'esclamare piangendo a goccioloni grossi così dalla tenerezza e picchiandosi il petto con tutte e due le mani. Ah Maria, com'è bello! Bocca di miele, occhi di sole, cuore mio, come parla e come guarda! Sarebbe stato uno scandalo se tutti, conoscendo la santa illibatezza del padre beneficiale e l'innocenza della povera scema non ne avessero riso. Ma un giorno barastella, vedendo uscire il padre beneficiale dalla chiesa, si inginocchiò in mezzo alla piazzetta e presagli una mano cominciò a baciargliela perdutamente e poi a passarsela sui capelli, su tutta la faccia, fin sotto la gola, gemendo. Ah, padre mio, mi levi questo fuoco, per carità, per carità, mi levi questo fuoco! Il povero padre Fiorica, smarrito, sballordito, chino sulla poverina senza nemmeno tentare di ritirare la mano, le chiedeva «Che fuoco, marastella, che fuoco, figlola mia!» E forse non avrebbe ancora capito se da tutte le casette attorno non fossero accorse le vicine a strappar da terra la scema con parole e atti così chiari che il padre Fiorica, sbiancato, trasegolato, tremante, se n'era fuggito facendosi la croce a due mani. E questa volta, sì, il diavolo sarà troppo scoperto. Riconobbero tutti l'opera sua in quella pazzia di marastella. E allora egli ne pensò un'altra che doveva costare al padre beneficiale Fiorica il più gran dolore della sua vita. La perdita di Guiduccio. State a sentire. Guiduccio era un ragazzo di nove anni, unico figuolo maschio della più cospicua famiglia della parrocchia, la famiglia Greli. Il padre beneficiale Fiorica aveva in cuore da anni la spina di questa famiglia che si teneva lontana dalla Santa Chiesa. Non già perché fosse veramente nemica della fede, ma perché lei, la Chiesa, a giudizio del signor Greli, che era stato caribaldino, carabiniere genovese nella campagna del 1860 e ferito a un braccio nella battaglia di Milazzo, lei, la Chiesa, sostinava a rimanere nemica della patria, ragion per cui un patriota come il signor Greli credeva di non potervi metter piede. Ora, di politica, il padre beneficiale Fiorica non sarebbe impicciato mai e non riusciva perciò a capacitarsi come l'amor di patria potesse essere cagione che la mamma e le sorelle maggiori di Guiduccio e Guiduccio stesso non venissero in chiesa almeno la domenica e le feste principali per la Santa Messa. non diceva confessarsi non diceva comunicarsi la Santa Messa almeno la domenica Dio benedetto che tentato al solito dal diavolaccio che gli andava sempre avanti e dietro come l'ombra del suo stesso corpo cercava di entrare nelle grazie del signor Greli. Eccolo là che passa non fingere di non vederlo salutalo salutalo tu per primo un bel linchino con dignitosa umiltà e padre Fiorica ubbidiva subito al suggerimento del diavolo si inchinava sorridente ma il signor Greli acciliato rispondeva appena appena con brusca durezza a quell'inchino e a quel sorriso e il diavolo si sa le gongolava. Ora un pomeriggio d'estate alla vigilia di una festa solenne il diavolo sapendo che il signor Greli si era ritirato a casa molto stanco del lavoro della mattinata e si era messo a letto per ristorare le forze con qualche oretta di sonno che fece? Salì non visto con alcuni monellacci al campanile della chiesina di San Pietro e da lì dallì a suonare dallì a suonare tutte le campane con una furia così dispettosa che il signor Greli il quale radindole focose facilmente si lasciava prendere dall'ira a un certo punto non potendone più salto giù dal letto e così come si trovava in maniche di camicia e mutande corse su in terrazza armato di fucile e si signore commise il sacrilegio di sparare contro le sante campane della chiesa colpì delle tre quella di destra le più squillante occhio di antico carabiniere genovese ma povera campanella sembra una cagnolina che colta a tradimento da un sasso mentre faceva rumorosamente le feste al padrone cangiasse d'un tratto l'abbaio festoso con acuti guaiti tutti i parrocchiani raccolti per la festa davanti alla chiesa si levarono in tumulto furibondi contro il sacrilego e fu vera grazia di Dio se al padre beneficiale Fiorica accorso tutto sconvolto e coi paramenti sacri ancora indosso riuscì ad impedire con la sua autorità che la violenza dei suoi fedeli indignati prorompesse e si abbattesse sulla casa di Greli li arrestò a tempo li placò rendendosi malevadore che il signor Greli avrebbe donato una campana nuova alla chiesa e che un'altra e più solenne festa si sarebbe fatta per il battesimo di essa allora per la prima volta guiduccio Greli entrò nella chiesina di San Pietro veramente il padre beneficiale Fiorica avrebbe desiderato che madrina della campana fosse la signora Greli o almeno una delle figliuole la maggiore che aveva circa diciotto anni rimase però grato poi in cor suo al signor Greli di non aver voluto condiscendere a quel suo desiderio vedendo il miracolo che il battesimo della campana operò nell'anima di quel fanciullo o forse per l'esaltazione della festa o forse per la simpatia che gli testimoniarono tutti i fedeli della parrocchia o piuttosto la voce che gli per primo trasse da quella campana benedetta salita su in cima al campanile nel luminoso azzurro del cielo il fatto è che da quel giorno in poi la voce di quella campana lo chiamò ogni mattina alla chiesa per la prima messa il nascosto udendo quella voce balzava dal letto e correva in cerca della vecchia serva di casa perché lo conducesse con sé e se il papà non volesse gli diceva la serva ma Guiduccio insisteva scosso da un brivido a ogni rintocco della campana che si guidava a chiamar sommessa nella notte e per l'angusta viuzza ancora invasa dalle tenebre notturne abbrividendo si stringeva alla vecchia serva e arrivato alla piazzetta della chiesa alzava gli occhi al campanile e allo sgomento misterioso che gliene veniva non meno misterioso rispondeva il conforto che appena entrato nella chiesa gli veniva dai ceri placidi accesi sull'altare nella frescura dell'ombra solenne insaporata di incenso la prima volta che il padre beneficiale fiorica voltandosi dall'altare verso i fedeli se lo vide davanti incinocchiato dinanzi alla balustrata con gli occhioni tra i riccioli castani ancora imbambolati spalancati e lucenti quasi di follia divina si sentì fendere le reni da un lungo brivido di tenerezza e dovette far violenza a se stesso per resistere alla tentazione di scendere dall'altare e carezzare quel volto d'angelo e quelle manine congiunte finita la messa fece segno alla vecchia di condurre il bimbo in sagrestia e lì se lo preso in braccio lo baciò in fronte e sui capelli dimostrò ad uno ad uno tutti gli arredi e i paramenti sacri le pianete coi ricami e le brusche d'oro e i camici e le stole le mitrie i manipoli tutti odorosi di incenso e di cera lo persuase poi dolcemente a confessare alla mamma di essere venuto in chiesa quella mattina per il richiamo della sua campana santa e a pregarla che gli concedesse di ritornarsi infine lo invitò sempre col permesso della mamma alla canonica a vedere i fiori del giardinetto le vignette colorate dei libri e i santini e a sentire qualche suo raccontino Guiduccio andò ogni giorno alla canonica avido dei racconti della sacra storia il padre beneficiale fiorica vedendosi davanti palancati e intenti quegli occhioni fervidi nel visetto pallido e ardito tremava di commozione per la grazia che Dio gli concedeva di bearsi di quel meraviglioso fiore della fede in quella candida anima infantile e quando sul più bello di quei racconti Guiduccio non riuscendo più a contenere l'intera esaltazione gli buttava le braccia al collo e gli si stringeva il petto fremente ne provava tale gaudio e insieme tale sgomento e si sentiva quasi schiantar l'anima e piangendo e premendo le mani sulle terga del bimbo esclamava oh figlio mio e che vorrà Dio da te ma si il diavolo stava intanto in agguato dietro il seggiolone su cui il padre beneficiale fiorica sedeva con guiduccio sulle ginocchia il padre beneficiale fiorica al solito non se ne accorgeva avrebbe potuto notare santo Dio una certa ombra che di tratto in tratto passava sul volto del fanciullo e gli faceva corrugare un po' le ciglia quell'ombra quel corrugamento di ciglia erano provocati dalla monaria indulgenza con cui egli velava e assolveva certi fatti della sacra storia buonaria indulgenza che turbava profondamente l'anima risentita del fanciullo già forse messa in diffidenza a casa e forse anche derisa dal padre e dalle sorelle ed ecco allora in che modo il diavolo trasse partito da questi e tant'altri piccoli segni che sfuggivano all'accorgimento del padre fiorica nel mese di maggio dedicato alla vergine nella chiesetta di san pietro dopo la predica e la recita del rosario dopo impartita la benedizione e cantate a coro al suono dell'organo le canzoncine in lode di Maria si faceva il sorteggio tra i divoti una madonnina di cera custodita in una campana di cristallo donne e fanciulli cantando le canzoncine in ginocchio tenevano fissi gli occhi a quella madonnina sull'altare tra i cieli accesi e le rose offerte in gran profusione e ciascuno desiderava ardentemente che quella madonnina gli toccasse in sorte tuttavia non poche donne ammirando il fervore con cui guiduccio pregava davanti a tutti avrebbero voluto che la madonnina anziché a qualcuna di loro sortisse a lui e più di tutti naturalmente lo desiderava il padre beneficiale fiorica le polizine della riffa costavano un soldo l'una il sagrestano aveva l'incarico della vendita durante la settimana e su ogni polizina segnava il nome dell'acquirente tutte le polizine poi la domenica erano raccolte arrotolate in un'urna di cristallo il padre beneficiale fiorica vi affondava una mano rimestava un po' tra il silenzio ansioso di tutti i fedeli inginocchiati ne estraeva una la mostrava la svolgeva e attraverso le lenti insellate sulla punta del naso ne leggeva il nome la madonnina era condotta in processione tra canti e suoni di tamburi alla casa del sorteggiato si immaginava padre fiorica l'esultanza di guiduccio se dall'urna fosse sortito il suo nome e vedendolo lì davanti all'altare inginocchiato rimestando nell'urna avrebbe voluto che per un miracolo le sue dita indovinassero la polizina che ne conteneva il nome e quasi quasi era scontento della generosità del fanciullo il quale potendo prendere dieci polizine con la mezza lira che ogni domenica gli dava la mamma si contentava ad una sola per non avere alcun vantaggio sugli altri ragazzi la cui anzi lui stesso con gli altri nove soldi comperava le polizine e chissà che quella madonnina entrando con tanta festa in casa greli non avesse poi il potere di conciliare con la chiesa tutta la famiglia così il diavolo tentava il padre beneficiale fiorica ma fece anche di più quando fu l'ultima domenica venuto al momento solenne del sorteggio appena lo vide salire all'altare dove accanto all'urna di cristallo stava la madonnina di cera zitto zitto gli si mise dietro le spalle e il sissignori gli suggerì di leggere nella polizina estratta il nome di guiduccio greli allo scoppio di sultanza di tutti i divoti guiduccio però diventato in prima di brazia si fece subito dopo pallido pallido aggrottò le ciglia sugli occhioni intorbidati cominciò a tremare tutto convulso nascose il volto tra le braccia e guizzando per divincolarsi dalla ressa delle donne che volevano baciarlo per congratularsi scappò via dalla chiesa via via e rifugiandosi in casa si buttò tra le braccia della madre e proruppe in un pianto frenetico poco dopo udendo per la viuzza il rullo del tamburo e il corno dei divoti che gli portavano in casa la madonnina cominciò a pestare i piedi a contorcersi tra le braccia della madre e delle sorelle e a gridare non è vero non è vero non la voglio mandatela via non è vero non la voglio era accaduto questo che dei dieci soldi che la mamma gli dava ogni domenica nove guiduccio li aveva già dati al solito ai ragazzi poveri della parrocchia perché fossero iscritti anche loro al sorteggio nel recarsi alla sagrestia con l'ultimo soldino rimasto agli per sé era stato avvicinato da un ragazzetto tutto arruffato e scalzo il quale da tre settimane ammalato non aveva potuto prendere parte alla festa e al sorteggio delle madonnine precedenti e vedendo ora guiduccio con quell'ultimo soldino in mano gli aveva chiesto se non era per lui e guiduccio gliel'aveva dato troppe volte il signor Greli in casa scherzando aveva ammonito il figlio vada duccio ti vedo con la chiarica duccio vada quel tuo prete ti vuole accalappiare e difatti perché a lui quella madonnina se nessuna polizza recava il suo nome quell'ultima domenica la signora Greli per far cessare l'orgasmo del figlio ordinò che subito la madonnina fosse rimandata indietro alla chiesa e dall'ora in poi il padre beneficiale Fiorica non vide più guiduccio Greli e dall'ora in poi che subito che subito che subito che subito che subito che subito